Tassi di interesse, la risposta alla domanda nel titolo è tassi di interesse Ma in che senso? Abbiamo già parlato dei tassi di interesse sul canale e in realtà a settembre 2021 dicevo proprio questa cosa ossia che quando le banche centrali avessero iniziato ad aumentare i tassi di interesse, gli mercati azionari sarebbero scesi Ma quindi tutta sta roba che sta succedendo non è che è una sorpresa nel senso è un meccanismo che evidentemente ha una qualche logica Ora però lasciamo perdere il passato, quello che conta è solamente il futuro quindi quello che potrebbe succedere Considerato soprattutto che le banche centrali di quasi tutto il mondo hanno una e una sola intenzione in mente, alzare i tassi di interesse Per questo motivo bisogna chiedersi, le borse toccheranno nuovi minimi? Quanto in basso possono scendere? Ne parliamo nel video di oggi Ciao a tutti ragazzi sono Pietro e bentornati in questo nuovo video Oggi parliamo di mercati azionari e una delle domande che si stanno facendo tanti soprattutto negli ultimi giorni è Quanto in basso possiamo scendere ancora? A influenzare le borse sono decine e decine di fattori, alcuni probabilmente anche sconosciuti, imprevedibili Quindi la risposta di Vale dovrebbe essere non lo so Nessuno sa dove arriveremo, nessuno sa se magari da domani i mercati schizzeranno in alto per non vedere mai più questi livelli Però siamo realisti, concentriamoci solamente su quello che sappiamo con matematica certezza Ossia che le banche centrali vogliono ulteriormente aumentare i tassi di interesse E in base a questo possiamo fare alcuni ragionamenti Senza entrare nel dettaglio ricordiamo che cosa significa l'aumento dei tassi per le borse Se le banche centrali, diciamo la Fed, la banca centrale americana, decidono di aumentare i tassi di interesse Questo ha un effetto a cascata su quasi tutte le asset class Le obbligazioni per esempio scendono, questo perché pagavano un tasso di interesse X Ma quelle nuove pagheranno un tasso di interesse superiore, quindi la gente vuole le nuove Ecco quindi che i rendimenti delle obbligazioni aumentano, diventando di fatto una sorta di alternativa al mercato azionario Per semplificare immaginatevi come se sui mercati finanziari ci fossero solo due alternative possibili Azioni e obbligazioni Se le obbligazioni diventano più redditizie perché i tassi aumentano Ecco che allora il mercato azionario ne soffre perché una parte di investitori si sposterà di là E giusto per farvi un paragone di a che livello siamo in questo momento Oggi comprare l'S&P 500 dà un dividendo annuo dell'1,69% Mentre il decennale statunitense paga circa il doppio, 3,73% Ovvio che qui bisogna specificare che praticamente nessuno compra l'S&P 500 solamente per il dividendo Anzi lo compri sperando che le aziende che contiene andranno a crescere nel tempo Però tutte quelle cose lì sono secondarie e soprattutto sono più incerte Per questo motivo non possiamo mettere sullo stesso piano la crescita degli utili con il rendimento offerto dalle obbligazioni E giusto per farvi un paragone, per farvi capire meglio cosa sto dicendo Solamente un anno fa il decennale americano pagava 1,46% annuo Quindi già vi rendete conto di quanto sono cambiate le cose Ma proviamo a misurare tutto ciò Ossia l'aumento dei tassi Che impatto ha sulle azioni? In altre parole quanto l'aumento dei tassi può far scendere le borse? Calcoliamolo Quello che vedete adesso a schermo si chiama discounted cash flow Ed è un modello di valutazione per le aziende Si inseriscono diversi parametri e l'obiettivo è andare a trovare il valore intrinseco di un'azienda Quindi quanto vale? Tutto ciò chiaramente serve a capire se investire in quell'azienda sia una scelta sensata oppure no Poi come ci si comporta di solito Si compra quando il prezzo di un'azienda è inferiore al valore risultato da questo modello E si vende quando invece il prezzo è cresciuto rispetto al valore che viene fuori Ho semplificato tantissimo Se volete saperne di più sul value investing seguite il canale e ne parliamo più avanti In questo modello comunque ci sono vari elementi, vari input e che tutti portano a un output E chiaramente il variare di questi input fa variare l'unico output, quindi il valore I tre input principali possiamo riassumerli in fatturato, margini di profitto e tasso di sconto Di solito poi si tiene conto di un orizzonte temporale medio o per mia preferenza personale lungo Quindi sui 5-10 anni, mai di più o mai di meno Concretamente quello che si va a fare con questo modello è andare a stimare i flussi di cassa di un'azienda futuri E li si attualizza tenendo conto di un tasso di sconto Ossia dei tassi di interesse offerti dal mercato generalmente Attualizzare, per chi non avesse mai sentito questa parola, lo si può in qualche modo tradurre come Si tiene conto di Prendiamo quindi un'azienda a caso e facciamo il nostro modello discounted cash flow Io ho preso Coca-Cola e qui ci tengo a precisare che ho copiato e incollato le stime degli analisti Per il futuro non ne ho fatte di mie perché dovrei studiarlo per poterle fare Quindi questa roba che io faccio adesso non si fa La sto facendo solamente per far vedere come al cambiare di un valore cambia il risultato finale In questo momento il decennale americano paga 3,71% annuo E considerato questo tasso, considerate tutte le aspettative del mercato Che tutti i calcoli in questo momento sono troppo lunghi da spiegare Il valore di Coca-Cola in questo momento è di 77 dollari contro 56 dollari del prezzo di oggi Quindi teoricamente risulterebbe sottovalutato Mettiamo questo valore in un grafico, ci servirà tra pochissimo E proviamo a vedere cambiando il tasso di interesse cosa succede al valore intrinseco Cambia? Diminuisce? Scende? Cazzo? Tale? Cosa? Per esempio mettiamo che il rendimento del decennale americano dal 3,70% passi al 4% In questo caso il valore come vedete cala Saliamo al 4,5% il valore cala ancora Saliamo al 5% il valore cala ancora e così via, avete capito Se arriviamo per intenderci a un valore del 6% di rendimento del decennale statunitense Che è un valore che non si vedeva dal 2000 ma anche l'inflazione adesso non la si vedeva da un bel po' Il valore di Coca-Cola scende a 48 dollari ed eravamo partiti da 77 E l'unica cosa che abbiamo cambiato qui dentro è il decennale americano Solamente aumentando i tassi il valore di Coca-Cola a livello matematico si è distrutto E tutto ciò non è assurdo, è totalmente sensato Se aumentano i tassi di interesse significa che il costo di aspettare e di rischiare aumenta E vi dirò di più, nel caso di Coca-Cola questo effetto è anche contenuto C'è di peggio e in particolare il peggio lo troviamo in tutte quelle aziende che puntano tanto al futuro E quindi dove i flussi di cassa sono molto lontani nel tempo Parlo di aziende che oggi fanno o poco o nessun utile che la prospettiva è che vadano a crescere tantissimo in futuro Non a caso con questi primi rialzi di interesse che abbiamo già assaggiato Le aziende growth, proprio la descrizione di quello che sto dicendo, sono quelle che hanno sofferto di più Ora, domanda delle domande Dove arriveranno i tassi? Eh sì perché in base a questo a questo punto possiamo andare a capire dove potrebbe arrivare, che ne so, le S&P 500 Rispondere a questa domanda non è per niente semplice Perché nemmeno la stessa Fed può dire con certezza quando si fermerà In questo momento i tassi sono in un range target tra il 3 e il 25% I membri della Fed si aspettano che i tassi di interesse nel 2022 arriveranno a salire al 4,4 Nel 2023 saliranno al 4,6 Nel 2024 scenderanno al 3,9 E dal 2025, scusate, in poi si abbasseranno al 2,9% E quindi uno potrebbe pensare, in base a quello che abbiamo detto Ok, quindi le azioni sono sì destinate a scendere ancora, toccheranno i minimi quando i tassi tornano ad abbassarsi Quindi idealmente nel 2023, tra un anno, giusto? Può essere, ma nessuno può dirlo con certezza Anche perché non sappiamo esattamente quanto in questo momento i mercati si stanno aspettando rialzi A mio parere i mercati stanno scontando un futuro abbastanza ottimista Forse troppo ottimista E sono tutti fiduciosi che nel giro di un anno, un anno e mezzo La Fed riuscirà a tenere sotto controllo l'inflazione Quindi nel 2023-2024 al massimo saremo tutti a posto Ma se così non dovesse essere, nel 2023, che non è lontanissimo Potremmo ritrovarci con tassi ben più alti del 4 e qualcosa che in questo momento la gente si aspetta D'altronde, negli anni 70, per esempio, abbiamo vissuto una situazione simile Con altissima inflazione, botte di inflazione e banche centrali che non riuscivano a star dietro E se dovessimo arrivare ai livelli degli anni 70, le azioni potrebbero scendere tantissimo Infatti, in quel caso, il tasso fissato dalla Fed era arrivato a toccare il 13% Ora ricordo che siamo al 3% Non siamo drastici, però, secondo me la verità sta sempre nel mezzo E quindi mi aspetto che i mercati ancora un po' debbano scontarlo, questo aumento dei tassi Mi sembra che ancora non abbiano considerato troppo l'ipotesi di tassi molto alti Che non vediamo da decenni Ricordiamoci, infine, di una cosa I mercati si muovono sempre in anticipo Si muovono basandosi sulle aspettative Questo significa che basta l'aspettativa di qualcosa per far muovere i mercati Non si deve verificare quell'evento Basta solo che si verificherà È un po' come dire l'attesa del piacere è essa stessa al piacere L'attesa del rialzo dei tassi è essa stessa al rialzo dei tassi Per cui è vero che ora ci aspettano indubbiamente una serie di rialzi Ma è possibile che i mercati faranno i minimi anche prima della fine di questo aumento dei tassi E questo perché si muoveranno con anticipo Quindi, dico delle date completamente a caso, giusto per capirci Mettiamo a caso che l'inflazione negli Stati Uniti nel 2025 sia tornata al 2%, 3% massimo E quindi da quel punto in poi la Fed dica Ok, basta Adesso smettiamo di aumentare i tassi Ecco, i mercati già nel 2024, quindi già un anno prima Potrebbero andare a toccare nuovi minimi Questo più o meno l'orizzonte temporale Ovviamente se andate voi ad acquistare di solito azioni singole Questo dovrebbe riguardarvi ma fino a un certo punto Secondo me questi discorsi sono molto più interessanti per chi acquista indici Per chi usa ETF Quindi deve andare a capire qual è il momento giusto per comprarsi un ETF azionario, obbligazionario Per chi fa stock picking, per chi fa valutazione aziendale Contano molto di più altre cose come il modello di business, l'analisi fondamentale, di bilancio Tutte cose che sì sono impattate dall'aumento dei tassi Ma di solito conta di più il resto Quindi spero che questo video vi abbia chiarito un pochino le idee su cosa aspettarci da questa fase Su cosa aspettarci dal futuro Bisogna sempre trovarsi pronti secondo me E video come questi non vogliono essere tanto illuminanti su succedere a questo Quanto più preparare un po' il terreno In modo tale che quando poi dovessero verificarsi determinati eventi Noi siamo qua pronti E se avete apprezzato tutto ciò ricordatevi di farmelo sapere con un bel mi piace Perché per voi significa pochissimo Ma in realtà per me significa tanto Perché capisco che video come questi vi interessano Per oggi quindi è tutto ragazzi Un saluto e alla prossima